Siamo qui a Città della Scienza ed oggi 8 novembre si terrà la seconda edizione della Convention Wedding Update che è diventato un punto di riferimento per tutti i professionisti del settore. Abbiamo deciso di affrontare gli aspetti legali del matrimonio. Durante il convegno sono state trattate le conseguenze del mancato completamento di un evento da parte delle aziende. Di questo ne parleremo con l'Avvocato Napoletano Andrea Di Lecce. Abbiamo spiegato che tutte quante le volte in cui l'inatempimento del contratto sia attribuibile a dolo o a colpa dell'agenzia che sta organizzando il matrimonio in quel caso purtroppo sarà tenuta a risarcire il danno. Tra l'altro abbiamo anche illustrato alcune sentenze nelle quali c'è una giurisprudenza che oggi parla addirittura di un danno non patrimoniale, di un danno morale da matrimonio rovinato. Andremo ora ad intervistare la dottoressa in Maia Vazzo, chiedendole come affronterebbe il mancato completamento dell'organizzazione. Cercherei di non farmi prendere dall'ansia che ti toglie la freddezza lavorativa. Quindi rifletterei, mi guarderei in breve tempo intorno. Troverei delle soluzioni adeguate per far sì ed immediate, per far sì che il mio cliente, bene o male, non si rendesse conto dei problemi di dietro le quinte. Insomma, sia tu organizzatore o promesso spuso, chi sbaglia paga.